L'accordo fra Federpharma, CISPEL e Regione Toscana prevede la possibilità a studenti e parenti stretti di essi di effettuare tamponi antigenici rapidi all'interno delle farmacie. Al momento però il servizio, annunciato una settimana fa, non è ancora attivo e le farmacie aderenti sono poche. Nel Valdarno Aretino sono al momento infatti solo due, quella di Bucine e quella di Piazza Varchi a Montevarchi. Per effettuare questi tamponi è obbligatorio avere uno spazio dedicato e quindi per questo non tutte le farmacie sono dotate di queste aree. Il tutto però dovrebbe partire dalla prossima settimana con prenotazione obbligatoria chiamando la farmacia anche non nel comune di residenza se nel proprio non ci sono farmacie che offrono questo servizio. Dalla prossima settimana saremo operativi e faremo il tampone antigenico agli studenti gratuito qui in farmacia su appuntamento e ad un parente stretto della famiglia una volta al mese per due mesi. Le due farmacie del Valdarno Aretino che hanno aderito però già da due settimane stanno eseguendo tamponi rapidi a tutte le persone che lo vogliono, a prezio calmierato con la regione di 20 euro. L'iter per effettuare il tampone in farmacia è lo stesso sia per quelli a pagamento che per quelli gratuiti. Dotati della mascherina si entra qui in un ambiente estraneato dalla farmacia, viene fatto riempire un modulo possibilmente con l'indirizzo, il codice fiscale e le mail su cui poi manderemo il referto, si fa accomodare il paziente e faremo un prelievo con un piccolo tampone dal naso. Una volta effettuato il tampone dopo circa 15-20 minuti sarà comunicato il risultato e ovviamente poi l'iter in caso di positività seguirà quello delineato dall'ASL. Dopodiché se il tampone è negativo finisce tutto lì con il referto della regione, se no se fosse positivo viene, si attiva tutto il sistema e quindi automaticamente il sistema regionale e quindi verrà fatto poi il tampone molecolare e quindi poi tutto quello che ne consegue dalla positività. Il servizio è operativo tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì e sono circa 30 i tamponi che vengono effettuati al giorno nelle due farmacie, in attesa che altre se ne aggiungano alla lista. Già dai prossimi giorni dovrebbe aderire al servizio anche una di San Giovanni Valdarno.